Ciao gentaglia, sono Shootahatio e questo è Breaking Italy, lo show che ve lo andò dal lunedì al venerdì nel quale parliamo di cosa succede nel mondo Ben tornati, ben ritrovatici Sono riuscito dopo un paio di giorni a riavere la linea internet I lavori dai vicini non sono terminati apparentemente, però sono molto meno invasivi Almeno per oggi sento un lontano ronzio, non so se lo sentirete anche voi nel microfono, ma pazienza Gireremo Breaking Italy così ve lo meritate, soprattutto quelli di voi che sono venuti a raduno domenica È stato bellissimo conoscervi e vi dedico un vlog che ho caricato sul mio secondo canale e che trovate come al solito in descrizione o alla fine di questo video Però iniziamo a parlare delle cose E la prima cosa della quale volevo parlarvi oggi è una notizia che potrebbe interessare tutti noi, specie per il fatto di essere italiani E dico questo perché anche una cosa che ormai diventa quasi obsoleta come la fibra ottica In più o meno tutta Italia è ancora un sogno, oddio, anche la DSL in alcune zone d'Italia è un sogno Quindi questa notizia potrebbe interessarci Samsung infatti sta lavorando, avrebbe presentato degli studi in merito a una nuova tecnologia Che potrebbe finalmente metterla fuori dalla guerra di brevetti che sta facendo con Apple da tanto tempo Infatti quello che ha presentato non è un nuovo telefono, un nuovo tablet, un nuovo schermo per tablet Ma è una tecnologia che è stata definita 5G Anche se 5G non è il nome della tecnologia corretta Ma serve a farvi capire di cosa parliamo E infatti sono sicuro avete già capito Un nuovo sistema di trasmissioni dati cellulare Che sarebbe così veloce da surclassare le nuovissime e moltissimo chiacchierate linea fibra ottica di Google Le Google Fibers Bene questa tecnologia sarà ancora più veloce e potenzialmente non bisogna Ed è per questo che dicevo wow quanto piaceranno gli italiani questa cosa Spaccare le strade per installarla Semplicemente bisognerà mettere dei nuovi ripetitori Cosa che apparentemente è comunque un problema Visto che in Italia anche la nuovissima rete 4G è arrivata soltanto in alcune città Milano, Roma, Napoli Però non dobbiamo preoccuparci perché c'è tempo Questa tecnologia apparentemente sarà infatti ultimata nel 2020 L'Unione Europea della quale facciamo parte ha deciso di puntare su questa tecnologia Cosa importantissima Annunciando un piano di investimenti gigante da 50 milioni di euro E io sono contentissimo per questa cosa Questa è finalmente lungimiranza E spendere dei soldi in qualche cosa di brutalmente importante Spezia per la diffusione di internet che può servire a tutti e no Non solo per scaricare film illegalmente Anche se questa roba in fase di test Nel raggio di 2 km ha raggiunto l'incredibile velocità Perché per chi non lo sapesse vi assicuro che è un'incredibile velocità di 1056 Gbps Il che significa che in pochissimo tempo Pochissimo tempo puoi scaricare qualsiasi tipo di cosa ti venga in mente Lo so, so che stai pensando a film, videogiochi e porno Soprattutto che è il motore di internet però È davvero una cosa importante E ripeto, questa è lungimiranza Spendere dei soldi per qualcosa che avverrà nel futuro Questa è politica intelligente Parlando di cose che succedono in altri stati Ci muoviamo nel Bangladesh Dove è stata presa l'importante decisione di chiudere almeno 200 fabbriche tessili A causa delle continue proteste degli operai Come saprete infatti il Bangladesh è uno di quei posti dove Un sacco delle cose che abbiamo addosso tutti i giorni vengono prodotte E no, ovviamente non parlo di tecnologia, parlo di vestiti Presso che tutto il vestiero che indossiamo Dalla maglietta pagata a 2 euro al capo firmato Non viene prodotto negli stati cosiddetti avanzati Ma in quelli cosiddetti in via di sviluppo Come il Bangladesh E ovviamente non è un caso Le cose si producono lì perché costano meno E costano meno perché Uno, la moneta del luogo è debole Due, le condizioni del lavoro sono terribili Lo scorso 24 aprile infatti Dopo il crollo di un edificio che ospitava tantissimi lavoratori impiegati in questo settore Ne morirono ben mille L'occhio dei media e conseguentemente dell'opinione pubblica Si è un po' puntato su queste situazioni Che tutti conosciamo benissimo ma che tutti fingiamo di non conoscere Perché tendenzialmente è così che funziona e lo sappiamo tutti Ci piace pagare poco le cose come le t-shirt e i jeans Oppure pagarli molto perché c'è scritto Zvezvolz Però vengono comunque prodotti lì Non pensate che le grandi marche non c'entrano niente Nel crollo di quell'edificio fu addirittura Incluso il grandissimo brand italiano Benetton Quindi questo mi sembrava giusto farvelo sapere Vedremo come andranno le cose Comunque tenete presente che per economie come Bangladesh O come l'India Il settore tessile di esportazione Verso gli altri paesi è una delle cose trainanti dell'economia Quindi non che io voglio essere cinico ma probabilmente chiuderanno 200 aziende e ne riapriranno altre 300. A Milano invece un uomo, sicuramente avrete sentito questa notizia anche se non l'ho trattata su Breaking Italy perché è avvenuta nel periodo di ombra di Breaking Italy, un uomo ne ha ucciso altri a picconate e questi altri sono appena saliti a tre. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, sabato scorso in un quartiere periferico di Milano un uomo ha impugnato un piccone e ha iniziato ad agitarlo su una folla di presenti, riferendone cinque, dopodiché si è dato la fuga ed è stato arrestato poco dopo. Apparentemente l'uomo avrebbe problemi psicologici, la cosa ovviamente è stata immediatamente strumentalizzata da entrambe le parti perché a noi piace strumentalizzare le cose, quindi oh mio dio l'uomo è un extra comunitario perché non se ne torna del suo paese! In realtà è semplicemente un uomo con dei problemi, esattamente come quest'altro uomo che vi sto mostrando in questo momento, che ha molta, molta, poca capacità di mira con le armi da fuoco e che non è un immigrato. Quello che state guardando è infatti un uomo americano negli Stati Uniti che ha deciso di sparare sulla folla dopo aver chiacchierato con una donna e pur avendo aperto il fuoco su un carnaio, ora non so cosa stesse succedendo lì, ma c'è tanta gente, non è riuscito a colpire nessuno perché poi spaventato si è dato la fuga. Quindi, uno, bene così, due, no, la violenza non viene solo dagli immigrati, tre, ecco quello che può succedere in una discussione con la propria fidanzata dove si finisce a dirsi cose come sei come tua madre o lasci sempre i calzini sul divano. I calzini sul divano sono terribili, alle volte causano sparatoria. PS, prima che ne facciate una questione sulle armi da fuoco l'uomo aveva acquistato la pistola illegalmente. Il giornale tedesco Bild ha deciso di mostrarci una cosa importantissima, ovvero quali siano gli indizi che fanno capire se il slash la vostra partner vi sta tradendo con qualcuno. Quindi immagino che un sacco di voi con la coda di paglia che in questo momento stanno guardando questo video assieme alla propria compagna o al proprio compagno si siano irrigiditi lievemente. Quindi ecco la lista, vediamo se qualcuno di voi è colpevole. Guardate il vostro partner con la coda dell'occhio mentre scorro le immagini. Uno, il partner è improvvisamente incuriosito dalla sperimentazione di nuove cose a livello sessuale che prima non conosceva e che adesso conosce e che non è chiaro dove possa aver preso. Questo vale in un mondo nel quale non esiste la pornografia, quindi lo scartiamo. Due, il vostro partner cambia radicalmente il look, il che può avere senso. Ad esempio se il vostro partner prima girava così e poi decide di girare così, potreste avere dei sospetti o inventarveli e rendere la sua vita un inferno. Che comunque è sempre importante. Tre, il vostro partner esce molto di più e prima non lo faceva mai. E soprattutto se 4 esce con degli amici nuovi che però decide di non presentarvi. E 5 questi amici li scrivono alle 4 di notte e lui vi dice No ma è il mio cugino che sta male, quindi mi scrive alle 4 di notte. E soprattutto le due cose più importanti che in realtà probabilmente sono davvero quelle che un minimo, almeno secondo me, potrebbero accendervi la lucina del dubbio che sta lì vicino alla vallola pineale. Anche quando gli ponete domande in occhio risponde in modo irritato e questo potrebbe essere dovuto alla famosissima e scientificamente provata coda di paglia e dopo essere uscito senza di voi e poi rientrato vi racconta la serata per filo e per segno con una descrizione incredibile di particolari e questo potrebbe essere dovuto al fatto di cercare di cancellare ogni tipo di sospetto. Quindi alle 10 sono stato lì, alle 10 e un quarto sono stato lì, alle 11 sono stato là, alle 11 e mezza ero lì, quindi non ti ho tradito, cara slash caro. E l'ultima cosa della quale volevo parlare è una cosa che può essere considerata sessista effettivamente e magari se lo dico io può essere vero, visto che avete visto in una di quelle che secondo me è una delle puntate più belle di Parliamone, la mia posizione è contraposta a quella di Fabiana che è la ragazza che con me presenta Parliamone e che ha delle posizioni più nette. Parliamo di lei, la principessa Merida, una delle tante principesse Disney apparentemente. Dico apparentemente perché io non la conosco, non sono un grande fan dell'animazione di Walt Disney, non guardo più quel tipo di cartoni animati da un sacco di tempo, ma apparentemente Merida è questo personaggio che è un po' atipico rispetto alla classica figura della principessa Disney che per chi non se ne fosse accorto ha un suo format è un po' stereotipata. Ovvero è la bella e delicata che aspetta il suo principe azzurro che la salvi da un'ipotetica torre, amore perduto, paese che la prende in giro, pretendenti, boriosi, insomma. Le storie cambiano ma sono spesso sempre le stesse. Merida è diversa, la fisionomia è più pienotta, è meno sessualizzata, i capelli sono tutti spettinati, ha un arco. La Disney ha deciso di fare un redesign del personaggio trasformandolo da così a così. E questa cosa, e ve lo dico, mentre guardate la foto così potete vedere le differenze, ha fatto arrabbiare un po' di persone, perché il modello di donna forte e indipendente rappresentato da quel personaggio è stato completamente stravolto con il nuovo redesign. E non sono una o due persone a dirlo, o questa donna, che per chi non lo sapesse è Brenda Chapman, uno dei creatori del personaggio, ma più di 135.000 persone che in questo momento hanno firmato una petizione su change.org per dire no a questo redesign del personaggio. E io volevo chiedere a voi, Gian Taglia, cosa ne pensate? Credete che in questo redesign ci sia del sessismo? Pensate che non ci sia del sessismo, ma non sia giusto ingentilire questo personaggio? Soprattutto è ingentilire il personaggio, o è sessualizzarlo, o comunque privarlo del suo fascino? Io personalmente non ho visto il film, quindi per me è difficile pronunciarmi, non voglio parlare di cose che non conosco. Ed è tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato, se il video vi è piaciuto metteteci un bel mi piace, ditelo ai vostri amici, ditelo alla mamma, ditelo al cane, ci vediamo domani alle 18. Don 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 Grazie.